A meno male che abbiamo fatto presto, non aveva niente da dichiarare. In genere quando si ritorna di laggiù si hanno sempre dei ricordi nelle valigie per la famiglia, per gli amici. E se lei mi permette l'accompagno subito alla sede della compagnia. Il direttore generale tiene a parlare con lei prima della riunione del consiglio di amministrazione. Lorsignori hanno senza dubbio giudicato i risultati senza tener conto degli ordini che mi erano stati dati. In questa zona le perforazioni avevano rilevato la presenza di petrolio a crezzo.